Mister, tre punti importanti, vittoria conquistata probabilmente nel primo tempo, ha aggredito la partita e questo era un po' il leitmotiv della sfida, come l'avevi preparata? Che partita hai visto? Sì, l'abbiamo preparata così, sapendo che loro sono una grandissima squadra perché sono lì e lo meritano e niente, un po' cosci dell'andata, l'abbiamo preparata andando ad aggredire Alpi e su un recupero palla siamo andati subito in vantaggio, siamo stati bravi a raddoppiare su un altro recupero palla, era il nostro modo di aver interpretato la partita sapendo che loro partivano magari con questo 3-5-2 e siamo stati bravi ad andare ad aggredire subito Alpi, recuperando palla e finalizzando subito verticalizzando. Abbiamo speso forse tantissimo nel primo tempo, ci stiamo un attimino rilassati perché bisogna ricordare che ci sono anche loro e sono usciti, non abbiamo avuto grandissime occasioni contro tranne una mi sembra che ha fatto una grande parada a Gaggioli, però secondo me la vittoria penso che sia meritata.